Buongiorno ragazzi Calcio al mercato Scandaloso Calcio al mercato scandaloso quello della Juve di quest'anno Ma vi rendete conto? Ma non vi vergognate? Ma non vi vergognate? Vi dovete mettere A vergogna vi dovete mettere A vergogna vi dovete mettere A vergogna Vi dovete mettere ragazzi Vuoto al calcio al mercato della Juve 4 4 4 perché è arrivato Locatelli Se non arrivava Locatelli Vi davo 3 Vi davo 3 Punto e basta Mamma mia ragazzi E poi dopo l'accessione di Ronaldo Chi mi va a prendere come sostituto di Ronaldo? Ken Mi andate a prendere Ken? Come vero sostituto di Ronaldo Andava a preso Icardi Icardi Andava a preso Come vero sostituto di Ronaldo E negli ultimi giorni Dovevamo prendere anche Un centrocampista Un centrocampista Dovevamo prendere negli ultimi giorni E meno male che non mi avete venduto McKinney E meno male che non mi avete venduto McKinney E seguitemi anche sulla pagina Facebook Di Zero Bianco e Nera Fino alla fine Forza Juventus Buona giornata a tutti raga Ciao Ciao